Buongiorno, Ingrosso, buongiorno. Una vita di centrodestra, la tua coerenza. Sì, sì, in questa sede sono candidato sinistra. Un confronto tra politici, non sono giornalista. No, 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 non sono giornalista. Una vita di Forza Italia e ora cosa sei andato a finire? Ora c'è il candidato sindaco del centro-sinistra. Rispondi, rispondi. Ingrosso, come si spiega? Centrodestra, una vita, ora sostiene. Rispondi, rispondi. La tua coerenza è pari a zero, è pari a zero. Pensa al dissesto che avete provocato. Compagno Musillo, candidato sindaco del centro-destra, rispondi. Hai cambiato troppo. Il compagno sindaco. Chi sei tu? Un candidato sinistro. Vai a parlare con i tuoi elettori. No, no, ti sto facendo. Tu sostieni Musillo? Io sostengo che mi intervisto. Sostieni Musillo? Non sostengo te. Sostieni Musillo? Mi stai chiedendo il voto? No, no, no. Non chiedo il voto ad un assessore del dissesto. Non lo chiedo. Per quel motivo sei qua. Come mai voti Musillo? L'uomo di centrodestra, di Forza Italia, ingrosso, che vota... E non lo voglio il tuo voto. Che vota il compagno Musillo. Sono candidato, forse non ci arrivi. Non so chiedendo i voti a qualcun altro. No, non so chiedendo i voti. Voglio sapere. La gente deve sapere che tu hai un candidato di sinistra, un candidato sindaco di sinistra. Certo. Guarda le visualizzazioni. Guarda con i tuoi. Guarda le visualizzazioni. Vai a parlare con i tuoi. Vai, vai. Vai. Il signor ingrosso da Forza Italia a sostenere un candidato di sinistra. Eccolo. Perfetto. Sostengo Musillo.